Ciao Milena, ma noi abbiamo ancora una pagina, quell'omicidio di Diabolic e il suo autore. Raul Estevan, detto Francisco Calderon, 52 anni, argentino, pregiudicato di calibro, sempre in forma, fisicamente, sempre allerta col cervello, abituato a tenere il cellulare lontano per non farsi tracciare e a dormire un po' qui e un po' là per non farsi trovare. Una settimana fa le manette ai polsi non gli hanno tolto baldanza. Gli occhi di chi indaga si sono posati su Calderon poco dopo l'omicidio di Diablo Fabrizio Piscitelli, il narcotrafficante, leader degli irriducibili della Lazio, ammazzato al Parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto 2019. Gli elementi per arrivare a lui sono stati la perizia antropometrica che ha comparato la corsa di Calderon con quella del killer, vestito da runner, filmato da una telecamera, e le frasi pronunciate mesi fa da Enrico Bennato, malavitoso della periferia ovest della capitale, che parlando col fratello in carcere, dove era finito per minacce all'ex fidanzata, ha addossato su Calderon sia il delitto Piscitelli che quello dell'albanese Selavdi Sheai, fatto fuori dallo stesso Bennato e dall'argentino a Torvajanica un anno fa. Lì, come da Piscitelli, Calderon si era bendato al polpaccio destro per nascondere un tatuaggio, ma il colpo di grazia l'ha preso dalla madre di sua figlia minorenne. Per anni l'argentino e la compagna, ora ex, hanno rapinato gioiellerie insieme, poi si sono separati. Lei è stata arrestata e qualche mese fa l'hanno intercettata mentre accusava lui di averle preso la pistola per uccidere Piscitelli. La squadra mobile le ha fatto mettere tutto a verbale e poi l'ha portata in una località protetta. L'avvocato di Calderon fa indagini difensive e giura che il cliente è innocente, ma in procura e in questura sono sicuri. Dicono che il presunto killer di Diabolic è un criminale incallito, ha perfino un alias, oltre a un'identità ufficiale che pare finta. Raúl e Estevan Calderon non sarebbe il vero nome e per appurarlo in queste ore si dialoga con Buenos Aires. Ora gli investigatori temono lo squilibrio creato dai due arresti, le possibili reazioni dei grossi gruppi criminali in guerra più o meno conclamata per le piazze dello spaccio. Molte energie sono investite nel fascicolo Diabolic. La caccia ai mandanti è potenziata, le informative riportano tre nomi, soggetti all'epoca furiosi per gli atteggiamenti sempre più spregiudicati di Piscitelli che dal 2015 in poi aveva perso la testa. Negli anni in cui i padroni di Roma, Carminati, Senese e Fasciani, erano rinchiusi a doppia mandata, Diablo era convinto di poter diventare il nuovo re. Gestiva il recupero crediti con gli albanesi, prendeva stecche sulle partite di Coca e Ashish, faceva massacrare di botte chi sgarrava, si imponeva come pacere tra bande rivali. Non è stato un singolo episodio a condannarlo a morte, ma la sua scesa arrogante e sguagliata. A novembre 2019 la Guardia di Finanza collocava Piscitelli, appena giustiziato, al vertice di un'organizzazione che, mentre rovesciava quintali di droga su Roma, terrorizzava amici e nemici senza pietà.